Un bello oratorio, il quartiere non è facile, lo sappiamo, ma questi ragazzi li hanno posto domande un po' costringenti e hanno dialogato con semplicità, anche il Vescovo è uno di loro. Beh, questo è tipico dei ragazzi, che quando sono in un contesto familiare, rassicurante, tirano fuori volentieri domande, alcune più puntuali e più, diciamo, curiose, altre più serie, più anche profonde e inquietanti, quindi questo è un po' abitudine dei ragazzi, soprattutto di questa generazione, di avere sempre pronte tante domande, magari non ascoltano le risposte, ma questo è una cosa dovuta al fatto che sono piccoli e che sono ancora molto inesperti di che cosa vuol dire ascoltare. Questi oratori dimostrano che quando si dà un insegnamento buono i giovani ci sono e ascoltano, magari non ascoltano tanto, però ascoltano poi ed adulti magari si ricordano. Sì, insomma, è chiaro che questi ambienti sono un piccolo segno, non è che ci saranno in questo quartiere moltissimi ragazzi e ragazze giovani che non hanno tempo, non hanno voglia, non hanno interesse, però effettivamente l'oratorio dà una testimonianza che è possibile stare insieme tra persone diverse per tanti motivi, che è possibile giocare, pregare, guardare tante cose belle della città o fuori città, ecco, è possibile fare delle cose bellissime insieme, quindi questo potrebbe essere un segno per tutta la città che non è proprio un posto così terribile, così quasi spaventoso da convincere a sfuggire. Si può abitarla la città, si può abitarla bene e certo bisogna renderla migliore.